E' un professionista. Allora, dato che sei un professionista, la prossima volta gli appuntamenti te li prendi da solo. Non sono la tua segretaria. Ti partigiano? Confermalo per stasera. E che cos'è quella faccia allora? Pericoloso. Stai rischiando troppo. Per cosa poi non so? Per cosa? Per te? Per noi? Presto avrò così tanti soldi che potremo andare via. Lontano da Borsalino e dal suo posto. Ti fidi di me? Mi fido. Vado. E' tardi. Passo al capire dopo. No. Se Borsalino ti vede ti fai piccare. Sono un professionista. Marcello. Ieri sera. Ha intercettato un messaggio cifrato dalla prefettura. Eh? Hanno un piano di fuga. Vogliono scappare. Mussolini. Mussolini in Ceracchi, vertici di Salò. Con tutto l'oro che hanno rubato un vento e poi portano tutto in Svizzera. Ma sei malato? Che cazzo dici? Non puoi avvicinarti alla zona vera. Non vado lo troviamo. Sparano a vista. Non si muove una foglia. Non è vero. Senza che Borsalino lo sappia. Ma ci state per quello? No. Se non l'hai notato siamo ancora in guerra. Appunto. Chi farebbe una pazzia simile in guerra? Tu. Noi. E' la nostra occasione, Vol. Quella che aspettiamo da sempre. Come fai a non vederla? Mi dispiace Tessina. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca. contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi operire.